benvenuti bentrovati nuovo appuntamento con a tutta bc extra la nostra puntata numero 211 che divideremo quasi equamente tra mountain bike uno splendido percorso una bellissima gara e poi naturalmente i nostri amati territori sia in emilia romagna sia poi un ultimo passaggio comunque importante sul monte grappa per quel che già sin d'ora potete immaginare partiamo però dalla mountain bike in particolar modo dalla conquista d'ores cap siamo a porto azzurro sull'isola d'elba grazie per questo servizio agli amici e colleghi di o bike abbiamo le fasi i secondi imminenti alla partenza ecco sono partiti e partite la settimana edizione della conquista d'ores cap da piazza matteotti vedessi le immagini dal drone che riprendono i corridori lungo appunto la piazza con il paese in sottofondo e vediamo proprio nelle prime posizioni già i big questo è il aria squervo dice il campione del mondo no proprio che alleva non a porto azzurro ma alla scorsa edizione della legend nella scorso aria se è un campione e lo conosco molto bene anche il piacere di allenarlo per un periodo ed effettivamente devo dire che è un gran motore infatti già prima dei primi chilometri si vede che riesce a imprimere un ritmo sulla pedalata molto elevato e poi ovviamente sarà tutta la durata della gara che potrà dire la verità perché fondamentalmente la gara è molto impegnativa e qui in seconda posizione abbiamo perlomeno nel gruppetto di testa abbiamo già i big della della gara ovvero aria squervo leo paez riccardo chiarini francesco casagrande jacopo pilli massimo rosa daniele menzi dario che è chi della ktm qui abbiamo ancora aria squervo in in testa alla al primo gruppetto che sarà verosimilmente alex il gruppetto che poi prenderà il largo c'è la via che si prospettano le varie salite no si vedendo un po i tempi e le velocità che hanno avuto non potendo vedere i vantaggi però fondamentalmente sono andate veramente forte questo gruppetto di testa ha fatto una grande differenza sul gruppo da qui da qui si continua la salita per il tratto che tra l'altro questo è un tratto nuovo che viene fatto quest'anno per dare un po un variabilità a quello che è il percorso appunto del classico due anelli previsti due anelli da 32 chilometri per un totale appunto di 64 chilometri qui si entra nello sterrato un tratto che sta creando ovviamente qualche problema ai primi corridori tanto è vero che il nostro operatore insieme al motociclista del quad non hanno pensato bene di far passare tutto il gruppo un gruppo che è composto da una ventina di ciclisti qui siamo sulla scalinata la scalinata che riporta poi verso il lungomare di porto azzurro ed ecco qui a laghetto di terra nera il primo passaggio spettacolare una ripresa dall'alto con i primi che si stanno un po sfilando e stanno cominciando a definirsi un po le griglie primo in testa ci sarà lo vediamo con il casco giallo il corridore della scott racing team jacopo billi che sta facendo un po il che sta tirando appunto il gruppo alex e qui vediamo sì che la parte scorrevole è terminata ora comincia la parte più pendente dove effettivamente qui le doti del cross kartista fondamentalmente dello scalatore nella mountain bike che sono fondamentali comunque il ciclismo anche da questo lato della mountain bike è cambiato fondamentalmente una volta venivano tirati i rapporti un pochino più lunghi oggi tendenzialmente le gambe tendono sempre a girare molto veloci questo vuol dire che per sviluppare watt si attaccano molto agli rpm e questo indica che l'atleta deve avere delle grandi doti cardiorespiratorie massimo in tutte le maniere quindi non solo gambe ma anche polmoni e saperli usare anche i polmoni senza dubbio ed ora sempre dalle immagini spettacolari del laghetto di terra nera siamo appena partiti siamo pochissima distanza dalla dalla linea di partenza pochi chilometri dalla partenza ecco vediamo il primo passaggio anche della delle donne con annabella stropparo una veterana tra l'altro vincitrice detentrice della vittoria per quanto concerne la conquistadores cup nel 2021 seguita però a ruota da chiara burato che la vediamo impegnata in questa rincorsa in questa salita e tra l'altro il terreno è anche impegnativo quello dell'elba per chi è molto 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 duro effettivamente è anche dal lato anche scivoloso sia in salita che in discesa non ti permette di erogare il massimo ed esprime il massimo della potenza a terra perché devi gestire bene diciamo il peso del tuo corpo quindi trovare il baricentro giusto per evitare di andare anche a vuoto non essere così efficace nella pedalata e sotto l'arco del laghetto di terra nera vediamo l'altra coppia di inseguitrici ovvero la debora piana seguita a ruota da silvia scipioni silvia scipioni che da quest'anno non è più non fa più parte degli amatori ma anche dal colore della maglia con cui la ciclita dei distingue professionisti dagli amatori la vediamo proprio tra le categorie appunto dei professionisti questa coppia sta inseguendo è un po attardata ma è comunque a pochissimi secondi dalla coppia di testa che appunto annabella stropparo e chiara burato qui siamo nel percorso che porterà poi verso capodarco e siamo nella zona dei carpini e questo tratto abbastanza impegnativo come salita però molto scorrevole sia come fondo che come strada quindi non è tecnico ancora la selezione dovrà essere fatta nei percorsi nei tratti diciamo successivi e qui vediamo proprio chiara burato che ha raggiunto Annabella stropparo è riuscita a superarla e a mettersi alla guida come si può vedere anche qui le differenze nelle cadenze da atleta atleta proprio legata alle proprie caratteristiche certo la stropparo metterà anche in gioco la sua capacità di capire l'effetto come si chiama strategia di gara proprio per la sua esperienza c'è da dire anche una cosa che annabella stropparo è arrivata a questa gara non in perfette condizioni di salute e quindi il suo obiettivo a inizio gara è quella di onorare il la gara per anche per un po che per quella che la sua e se il suo prestigio e siamo arrivati a capodarco con il passaggio degli degli uomini abbiamo visto il passaggio appunto del primo gruppetto quello di testa con massimo rosa riccardo chiarini francesco casagrande daniele mensi jacopo billi leonardo paez e dario chierchi e qui il gruppetto si è ulteriormente assottigliato adesso sono in sette che si daranno battaglia questo tra l'altro un tratto pianeggiante dove magari riprendono anche un po fiato si un gruppetto di tutto rispetto effettivamente la strategia che può essere nella testa di ogni atleta è un po legato anche alle gambe del nostro avversario no fondamentalmente quindi i corridori sono veramente esperti anche da questo lato questo fa il professionista e poi lo vedrai lo vedremo nello sviluppo della gara nello svolgente della gara quanto questo è il reale al cento per cento che a capodarco arrivano anche le donne abbiamo detto con la coppia di testa che era curata una bella stropparo il passaggio al cancello di capodarco successivamente vediamo proprio a poca distanza le altre due inseguitrici debora piana e silvia scipioni sono praticamente loro quattro che poi faranno che sembra che possano fare la competizione no nell'ambito femminile intanto quello che si vede è che la gara sta prendendo forma anche nelle prime file delle donne qui è sempre un tratto di capodarco nella zona di capodarco ancora un passaggio degli uomini passaggio con il gruppo di testa e jacopo billi riccardo chiarini daniele mensi e leo piazza francesco casagrande e massimo rosa tra l'altro bellissime queste immagini dal basso e poi si vedono sfilare i vari corridori sul tracciato un passaggio questo che è oltre che spettacolare anche impegnativo perché da qui poi si porterà verso acqua viva e verso sassi turchini e lo vediamo anche da queste immagini un tratto in discesa qui siamo a sassi turchini verso la zona chiamata del tralizio dell'enel in cui c'è una discesa molto ripida e anche con un terreno molto molto scivoloso tra l'altro qui mentre facevano facevamo le riprese uno dei concorrenti che era più arretrato ha fatto proprio una bella scivolata e per poco non si è fatto male immagini dall'alto sempre nella zona del tralizio enel con il gruppetto di testa che sta scorrendo e se ne va ovviamente verso la discesa per arrivare poi qui ad essere ulteriormente selezionato a un primo gruppetto di quattro corridori composto da francesco casagrande massimo rosa jacopo billi e riccardo chiarini qui stiamo all'azienda agricola a righi è un punto classico del percorso della conquistatore scapp qui siamo a quasi oltre alla metà diciamo del primo giro sempre lo stesso gruppetto al comando con fare l'andatura adesso è jacopo billi e qui vediamo alex e due ciclita dei una sodale un scott racing team in questo momento la ciclita dei potrebbe anche fare il gioco di squadra sicuramente sì considerare che avere un compagno di squadra a fianco a noi è sempre anche uno stimolo mentale fondamentalmente aiuta tanto è la parte di appoggio d'aiuto in qualsiasi situazione ci si possa generare certo nella mountain bike che ci possono essere tante inconvenienti tante variabili perché qualsiasi cosa appunto la scivolata la caduta la foratura qualsiasi cosa sia però in realtà se tutto va come dovrebbe andare anche con l'apporto della fortuna che è giusta la differenza l'atleta la fa sempre e avere un compagno di squadra accanto è fondamentale che abbiamo visto il passaggio appunto sotto l'arco di piazza matteotti con il passaggio appunto degli uomini e delle donne tra le donne in testa ancora chiara burato seguita da debora piana e poi abbiamo visto una bella stropparo un po tardata ma comunque a ruota delle prime e questo è toni longo toni longo che lo vediamo da solo ma in realtà lui sta facendo una gara per recuperare il gruppetto che è in testa il gruppetto dei quattro che abbiamo visto poc'anzi ecco questo è il gruppetto che deve essere recuperato e deve essere raggiunto da toni longo qui è interessante però questo tratto del percorso perché si vede proprio la strategia del dei vari atleti dandosi il cambio molto frequentemente diciamo perché si danno il cambio si sa che no che nel ciclismo ci sta il cambio per fare il l'andatura qui lo fanno spesso molto spesso e questo ovviamente perché ritmi sono molto elevati quindi si si lavora un debito di ossigeno quindi nipossia e si ha necessità ovviamente di recuperare anche un minimo ma bisogna recuperare proprio perché ritmi sono talmente elevati talmente tirati che non si può durare tanto a stare in assenza di ossigeno o quasi completamente nipossia quindi in realtà i cambi certo nel ciclismo da strada c'è la velocità stessa stare a ruota qui no perché spesso si lavora in pendenza in salita quindi in realtà non è un discorso di prendersia qui è proprio un discorso di del ritmo e darsi il cambio è fondamentale con questo credo che in realtà il compito arduo di Longo sia un bel impegno riuscire a riprendere un gruppetto così così qualizzato che riesce a fare la differenza in questo momento e vediamo che questo gruppetto adesso lascerà questa strada pianeggiante per cominciare la salita verso acqua viva e si tratta di Jacopo Billi Riccardo Chiarini Francesco Casagrande e Massimo Rosa ed eccoci allora ad acqua viva una postazione anche di ristoro con una sorpresa Alex perché quello che dicevamo prima del possibile recupero da parte di Tony Longo lo vediamo inquadrato in questo momento con numero 7 è avvenuto ovvero Tony Longo ha recuperato il gruppetto cosa può essere successo sicuramente le capacità di Tony Longo non sono indiscutibili però magari anche il gruppetto di testa probabilmente ha tenuto un po' troppo il freno in mano e cercando una strategia di risparmio che potrebbe essere avvantaggio appunto per le fasi finali della gara però sicuramente a mio parere Tony ha speso molta benzina per arrivare dove è arrivato adesso e lo vediamo infatti Tony Longo nel gruppetto staccato passaggio il passaggio adesso Massimo De Rosa che nel frattempo è stato vittima di una caduta e quindi in questo momento è lui che deve recuperare il gruppetto formato da Riccardo Chiarini, Jacopo Billi, Francesco Casagrande appunto il numero 7 che vediamo in coda a questo primo gruppetto Tony Longo qui siamo all'ingresso della crono scalata di Monserrato dicevamo appunto Massimo però Massimo Rosa è staccato e qui ci si avvia verso l'arrivo a Piazza Matteotti dopo la scalinata e qui che proprio alla fine della scalinata parte l'attacco per arrivare primi nel traguardo sotto l'arco e vediamo Jacopo Billi che accelera e il Francesco Casagrande che lo affianca lo sta per recuperare e sul traguardo anche con un certo un po' di mestiere no Alex riesce a superare Jacopo Billi e a vincere questa 7 medizione della Conquistadores Cup un po' di mestiere e anche un po' di bravura insomma combinata insieme un po' di sfortuna però ma sono da parte di riguardando le immagini il video di Billi perché ha avuto un'incertezza quell'incertezza nel repadalato si vede proprio che si è fermato un attimo sentiamo le interviste è stata per me una gara dura al finale ho provato qui sullo strappo perché temevo Billi e niente sono riuscito a prendere quei 20 metri ma ce l'ha fatta richiudere lui e Rosa e poi niente scalinata le ha prese in testa lui e Rosa appena uscito dalla curva sono uscito l'ho affiancato poi c'era un po' quello che è corto con fortuna gli ultimi 10 metri l'ho passato e ce l'ho fatta Francesco Casagrande su Jacopo Billi Chiara Burato su Deborah Piana questo in maniera estremamente sintetico l'ordine di arrivo di questa bellissima gara davvero molto molto spettacolare vi avevo promesso i territori arrivano prima però come sempre la nostra sigla CyclingLens.com Ed iniziamo allora con l'Emilia Romagna e la ciclovia dell'Etherma andiamo a chiudere un piccolo ciclo di quattro clip in realtà sul canale YouTube oltre a tutte le precedenti puntate da Tutte Bici potete trovare anche tutte le altre questa è dedicata in particolar modo agli hotel bike friendly che potete trovare lungo il percorso della ciclovia che lo ricordiamo lo vedrete in grafica anche tra brevissimo unisce due località termali di Riolo Terme a Castrocaro Terme Well first of all I'm a Danish tour operator and I've been in the area before and I'm really pleased to come back because this is a great area for cycling no traffic really beautiful roads I mean that's it's nice and safe and good to ride and the ciclo via dell'Etherma is a good opportunity to take my clients up in the backlands and do some really nice circuits to come back here to Riolo Terme there are many reasons to go back to Italy there are many reasons to go back to Italy of course cycling is that's why we're here we're cycling tour operators but when you're here why not enjoy the great food and the great wine and of course all the nice people so I'm sure that my clients are really happy to come here to Italy to experience all that Dalla ciclovia delle Terme alla ciclovia Romagna Toscana che origina sempre in zona Castrocaro ma come dice il nome appunto è pronta a passare il confine proprio sul confine la nostra guida in questa breve clip ci racconta la storia del luogo la storia di quel luogo in particolare passando in bici da soli potrebbe non dire nulla con una guida ovviamente i racconti anche storici sono ben più approfonditi spesso allora al di là della scoperta del territorio e del percorso in sé per sé conviene proprio questo percorso pedalarlo insieme a qualcuno di esperto che conosca quei luoghi che conosca queste interessanti storie il regno di Romagna fino a cento anni fa era Toscana cioè tu sai che il duce Benito Mussolini era nato quindi a Romagna lui nella sera mattina ha fatto un decreto per spostare questa parte sotto la Romagna in modo che il monte Fumaiolo dove nasce il fiume Sacro il Tevere fosse in Romagna come lui capito? ecco qui sto allora questa è la famosa aia di Guerino è un piccolo slargo a questo toponimo si chiamano aie perché servivano dove venivano accattastati i legnami praticamente da qui si scende giù in foresta quindi i buoi che portavano sui tronchi facevano il cambio del gioco qui mollavano i tronchi e poi altri trasportatori sempre muniti di questi animali si occupavano di portare a termine il trasporto questo è un punto particolare perché faremo un'opzione un'escursione che è di tipo mountain bike oppure chi ha la bicicletta può anche pensare a lasciarla qui si fa circa mezz'ora a piedi e si raggiunge un posto particolare che è il monte Penna una particolarità ci sono molti toponimi che si chiamano Penna il monte di Laverna di San Francesco si chiama che è distante in linea d'aria qui 15 km si chiama questo monte Penna vi è da chiedersi perché Penna Penna e beh è una curiosità che si può anche un attimino svelare siamo sull'Appennino ancora c'è il toponimo Penna in mezzo perché Penna è un toponimo molto antico e sta a indicare la montagna e in particolar modo quella montagna che esce come uno scoglio esce come un dente rispetto a tutti gli altri lini e dalla ciclovia Romagna Toscana al Monte Grappa al Monte Grappa Bike Day in particolare nel servizio che abbiamo costruito per voi sentirete che sono in realtà tante le esperienze anche non solo ciclistiche che si fanno sul Monte Grappa a breve ci sarà anche una manifestazione grave il fatto sta che come ogni anno alla data prefissata con chiusure delle strade che variano dalle 4 alle 6 ore a seconda della zona il Monte Grappa su più versanti ogni anno se ne sceglie uno differente viene letteralmente preso da salto a Bassano del Grappa era l'ottava edizione del Monte Grappa Bike Day una delle giornate non competitive dedicate alla bicicletta da strada in montagna più note e partecipate d'Italia ed Europa sicuramente la prima in termini numerici interamente ospitata nella regione Veneto significative e corpose le novità previste per il sabato mattina due ruote per eccellenza delle prealpi venete in primis un cambiamento di percorso per valorizzare ulteriormente la salita al massiccio riproponendo la stessa affrontata nell'anno inaugurale del primo Monte Grappa Bike Day in totale l'impegno giornaliero per l'intero percorso è stato pari a circa 2000 metri di dislivello positivo per 106 km di lunghezza di cui circa 70 chiusi al traffico in diverse fasce orarie che seguono il flusso dei partecipanti quindi da 4 a 6 ore al massimo il percorso consigliato e chiuso al traffico è partito dal centro di Bassano del Grappa dal punto di vista storico e culturale si evidenzia che l'ascesa consigliata dagli organizzatori e prevista nel gruppo come consueto attorno alle 8.30 ha unito la chiesa e tempio ossario di Bassano del Grappa al sacrario militare di Cimagrappa due luoghi iconici della prima guerra mondiale ora rilevanti attrattori per il turismo internazionale l'alternanza dei tracciati di quest'evento fra le diverse opzioni di salita e discesa che può offrire il Monte Grappa con le sue 10 varianti note agli appassionati raramente dettata da ragioni tecniche o di sicurezza secondo il desiderio degli organizzatori è invece lo scopo di far comprendere le numerose qualità del vasto comprensorio che circonda il celebre massiccio ad un pubblico sempre più ampio allo scopo quindi di affermarlo come destinazione ricercata nella geografia degli eventi e degli itinerari ciclistici di significativa qualità tecnica ed ambientale spronando a tal scopo lo sviluppo sostenibile di percorsi idonei alla pratica degli sport in bicicletta e di adeguati prodotti turistici dopo aver raggiunto i primi due dei tre ristori previsti Campo Croce naturalmente Cima Grappa il comitato organizzatore ha previsto per la prima volta il pasta party in alta quota 1.600 sul livello del mare presso il rifugio Scarpon collocato al quarto chilometro della discesa qui è stato possibile ricaricare anche la propria e-bike disponendo ovviamente del proprio caricabatterie grazie ad apposite colonnine il Montegrappa Bike Day ha iniziato la propria storia di successo nel 2014 con una prima edizione dal consenso e affetto inaspettato con oltre 4.500 ciclisti che sono poi culminati nel record assoluto di quattro anni dopo con oltre 10.000 passaggi rilevati e fotografati presso la Cima Grappa da allora la Montegrappa Bike Day ASD ha arricchito il proprio calendario di attività organizzando eventi anche in notturna come già da diversi anni ad esempio il Montegrappa Bike Night quest'anno in programma il prossimo 23 luglio giornate dedicate alla corsa come i Brenta Run Day ma anche in bici sulla neve al tramonto come la Lemmo Winter 2022 che si è svolta lo scorso 26 febbraio l'anno in corso vedrà infine un'altra novità il debutto del primo Montegrappa Gravel Day il prossimo 2 luglio nel corso degli anni la manifestazione ha potuto contare sulla partecipazione di numerosi atleti di diverse discipline compresi alcuni grandi del ciclismo come Alessandro Ballanne e Gilberto Simoni solo per citare due dei più famosi che amano e frequentano da sempre il Grappa insieme a loro anche un bel numero di giovani promesse quest'anno è salita sulla Grappa Deborah Soligone a compionessa italiana di ciclocross insieme a lei ad esempio anche il colonnello Carlo Calcagni già atleta paralimpico che lotta contro una malattia generata dall'uranio impoverito immagini spettacolari che danno l'idea di come il Montegrappa venga preso da salto appunto ma soprattutto della grande passione del grande link sempre più consistente sempre più potente che c'è tra ciclismo appassionati di ciclismo e territorio era l'ultimo servizio per questo nostro appuntamento numero 211 con la tuta bc extra noi ci vediamo come sempre la prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti